La violenza maschile contro le donne è un problema critico che pervade tanti settori della società, incluso il mondo dello sport, in quanto ad esempio nel cosiddetto ambiente spogliatuio ci sono spesso comportamenti e discorsi sessisti e maschilisti. Tutti dobbiamo apporci fermamente a dinamiche di questo genere anche in contesti tossici dove può risultare difficile esprimersi perché per combattere la cultura dello stupro è importante sensibilizzare e responsabilizzare e rieducare nei confronti di questa tematica, anche nei confronti dei particolari che possono sembrare rilevanti. Io mi impegno a responsabilizzare gli uomini sul ruolo che dobbiamo ricoprire per cambiare questa realtà. Visto che il 25 novembre sarà la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, noi atleti dell'Emma Villas e soprattutto noi più giovani che faremo parte delle generazioni future ci volevamo schierare a favore di questo movimento per mettere un punto definitivo a queste violenze che continuano a scatenarsi nella quotidianità. Grazie a tutti! Grazie a tutti!